Il Vangelo è un giorno sempre nuovo Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Ogni giorno è Pasqua. Spesso ci chiediamo dove andremo a finire o anche che cosa faremo. Il Signore ci dice come iniziare. Inizia il tuo giorno non con la promessa di un impegno o fatica. Inizia il tuo giorno dall'ascolto di una parola. Allora vedrai. Ogni giorno è Pasqua. Reggina dei Cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Rallegrati, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. 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 Grazie a tutti.